Fiume Liri da salvare, per questo è partita una raccolta firme per dire no al progetto di intubare il torrente Rianza. Il prossimo 15 marzo scadono infatti i termini per la presentazione delle osservazioni di cittadini identi al progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica Pesco Canale, sul fiume, che ne prevede l'intubazione per un chilometro. Deviando il corso naturale dell'acqua, questa ennesima intubazione rischia di far scomparire un ecosistema prezioso e di rara bellezza. Da sottolineare che il fiume Liri e i suoi affluenti sono già sfruttati da ben sei centrali idroelettriche installate su una linea di circa 20 chilometri. Come emerso nell'affollata assemblea pubblica del 24 febbraio scorso, si è costituito il comitato Viviamo in Liri, che unisce i cittadini da Cappadocia a Isola del Liri, in un unico intento di difesa e riqualificazione del fiume. Il comitato in questi giorni è al lavoro per presentare le osservazioni al progetto, osservazioni da far prevenire, come detto, alla prigione Abruzzo entro la data del 15 marzo. L'appello a partecipare è rivolto a tutti i cittadini, da Vezzano fino ad includere anche il territorio di Sora e Oltre, per dire un secco no al progetto, per le numerose incongruenze e criticità rilevate, da quelle naturalistico-paesaggistiche a quelle tecniche, da quelle della localizzazione a quelle che vanno in direzione della difesa dell'acqua. Sulla pagina Facebook del comitato è disponibile il modulo da rinviare compilato a viviamoilliri.gmail.com entro il 14 marzo.